buongiorno a tutti dalla vostra vera sono qui a presentarvi dei nuovi filati mi è arrivato il pacco delle meraviglie come lo chiamo io da una nuova azienda che ho conosciuto allora io vi metterò in descrizione tutti i link relativi a questa azienda che si chiama l'ane di biella cofil e vi metterò anche una sorpresina alla fine dopo che vi avrò parlato di questi filati sono dei filati bellissimi morbidissimi con dei colori stupendi estremamente brillanti è la cosa che mi ha colpito maggiormente i colori di questi filati io qui ne ho una carrellata che adesso vi farò vedere ma i colori nel sito di vendita sono molti ma molti di più il sito si chiama l'anedibiella.com allora adesso vi presento ad uno ad uno questi filati e vi spiego le loro particolarità la prima serie di filati che vi presento sono dei filati in pura lana merinos irrestringibile sono dei filati che si lavorano con i ferri 4 e mezzo 5 ma come dico sempre ognuno la sua mano io ad esempio li ho lavorati con il 5 e mi trovo benissimo e sono della serie royal qui ho qualcuno dei colori proposti ma nel catalogo del sito ce ne sono molti altri ce ne sono più di 40 vi voglio fare vedere che ho già iniziato la lavorazione di qualcosa con questi filati allora guardate ho utilizzato il color corallo che sarebbe questo sono dei gomitori da 50 grammi per fare un lavoretto che vi presenterò il prossimo lunedì e ciò che mi ha maggiormente veramente colpito è la compattezza della lavorazione che viene fuori con questa lana è veramente stupenda superba io l'ho provata e vi giuro che mi sono trovata veramente bene e ciò che mi fa ancora più piacere è che è un'azienda del territorio italiano in Piemonte in provincia di Biella quindi questa è la prima serie che vi presento ed è adatta a fare delle lavorazioni essendo che non è pelosa ma è ritorta in maniera liscia e adatta a fare tutti i tipi di lavorazione anche le lavorazioni per i neonati perché è molto molto morbida è restringibile naturalmente dovete seguire le indicazioni per il lavaggio ma è veramente bella e questa è la prima serie royal o royal non so come che si pronunci ok ho poi preso un'altra serie sempre in pura lana che adesso vi faccio vedere il secondo filato che vi presento che io ho scelto in queste colorazioni molto molto baby molto leggere e si chiama cablet è sempre in pura lana merinos irrestringibile e ci sono anche qui una trentina di colori diversi adesso vado a mente dico 30 ma potrebbe anche essere che ce ne siano di più io ho scelto questi colori molto adatti ai neonati perché ho intenzione di fare qualche progetto insieme a voi per i piccolini vi metterò anche magari riferimento del colore sotto nella descrizione insieme come ho detto anche al link dell'azienda che potete cliccare e vi collegate direttamente all'azienda anche questo come ho detto in pura lana e anche questi sono gomitoli da 50 grammi ecco poi ho scelto poi questo gomitolone passando al misto lana che penso si lavori non è indicato qui nell'etichetta non è indicato è soltanto indicato il numero ma è indicato poi nella descrizione del sito penso che si lavori con un 33 e mezzo ed è un colore melangiato sfumato molto morbido anche questo nonostante sia in misto lana questo credo che lo utilizzerò per un progetto per per i maschietti siccome non faccio quasi mai niente per gli uomini ho pensato magari di fare o delle calze o un berretto o una sciarpa poi vedrò sempre in misto lana ho scelto questo melangiato della serie galles ce ne sono di diverse tinte io ho scelto questo colore che va tra l'azzurro sfumato vedete a delle levie di sfumature l'ho trovato veramente carino e sono sempre 50 grammi anche questo e con questo credo che realizzerò delle calze da notte è molto morbido anche questo al pari dell'altro gomitolone melangiato questi sono i misti lana che ho scelto dopodiché ho pensato sempre ai piccolini e ho preso queste due tinte di questa lana jacquard della serie jacquard sempre melangiata che si lavora anche questa con con un ferro 4 4 e mezzo ma io sono sicura che mi troverò bene con il mio adorato numero 5 questi sono invece 100 grammi e questo è un misto lana al 60 per cento di lana il 40 per cento di acrilico con queste credo che verrebbe bene realizzare delle copertine perché si possono utilizzare dei punti molto molto semplici essendo che il lavoro lo effettua già la colorazione della lana quindi non abbiamo bisogno di impelagarci in punti particolarmente difficoltosi poi ho pensato che prima o poi arriverà all'estate no e magari anche la primavera e quindi ho scelto da farvi vedere questo cotone egiziano puro cotone al cento per cento della serie flamenco qui ce ne sono grammi andiamo a tirare fuori l'etichetta e la leggiamo insieme ok qui ci sono 100 grammi di filato e richiede sempre dei ferri 4 4 e mezzo tra l'altro quando vi collegate al sito potete fare la vostra scelta di filato in base a diverse cose io ad esempio in genere quando scelgo la lana la scelgo sempre in base al numero dei ferri perché io adoro lavorare con i ferri medi dal 4 e mezzo al 5 al 6 e non scelgo mai ma per mia diciamo modo personale di lavorare dei filati troppo sottili perché non mi trovo bene quindi tutti i filati che vi ho mostrato utilizzano dei ferri che vanno dai 4 e mezzo al 5 ecco anche con questi penso di realizzare qualcosa per i bambini per i bebè i neonati allora vi voglio ancora fare vedere una cosa di questi magnifici filati perché io ho cominciato a lavorarli e con il color corallo della royal o royal che dir si voglia ho fatto questa lavorazione costa a costa uno uno perché ho intenzione di proporvi la prossima settimana dei guanti senza dita guardate che belli allora sono facilissimi sono da indossare in questa maniera e si possono poi risvoltare in questo modo ottenere più lunghi se sia ancora freddo ho realizzato anche una piccolissima decorazione perché ho voluto provare anche questo colore arancio che è bellissimo io adoro l'arancione e ho fatto un fiocchetto all'uncinetto sapete che adesso abbiamo iniziato il nostro corso di uncinetto questo fiocchetto secondo me può essere posto qui oppure può essere posto qui alla base del polso io ho realizzato realizzerò insieme a voi questi guanti in queste due colorazioni corallo e cammello questo è un color cammello li ho lavorati praticamente in un paio di ore e poi li faremo insieme se a voi interessano fatemi sapere tra l'altro nei commenti se vi interessano questi mezzi guanti io li trovo veramente stupendi tra l'altro a questo mezzo guanto darò il mio nome perché l'ho inventato completamente io quindi lo chiameremo mezzo guanto vera ok così almeno mi attribuisco anche la maternità di qualche mio lavoro allora togliamo i mezzi guanti mettiamoci magari qua il filato con i quali li ho realizzati e adesso arriviamo alla sorpresa avete avuto pazienza di guardarmi fino alla fine di questo video la lana di biella cofil mettono a disposizione delle mie fedelissime ascoltatrici un codice promozionale quindi quando voi andrete nel sito ci sarà prima del pagamento ci sarà un riquadro dove c'è scritto codice promozionale voi dovrete inserire il mio nome tutto in minuscolo vera con il nome con quel codice promozionale avrete lo sconto sui filati che non sono già scontati nel 10 per cento perché vi dico sui filati che non sono già scontati perché siccome adesso siamo a fine stagione ce ne sono un mucchio che hanno già lo sconto e quindi usufruendo di uno sconto non potete usufruire di un altro sconto ma se comprate dei filati che non sono scontati voi lo sconto lo avrete lo stesso inserendo il mio nome quindi io vi inserisco nella descrizione un link che va direttamente all'azienda vi inserisco anche il codice promozionale da utilizzare e mi auguro che questo video vi sia piaciuto e che vi siano piaciuti altrettanto questi filati che vi assicuro sono veramente stupendi se qualcuno di voi ha la possibilità di acquistarli nel momento in cui lo fa mi mandi nei commenti la sua opinione perché per me anche la vostra opinione è importantissima perché io vi ripeto li ho lavorati e sono rimasta entusiasta soprattutto dei colori brillanti ma ci tengo anche a capire se anche a voi fanno la stessa impressione io con questo vi saluto vi mando un abbraccio caro e vi ringrazio tantissimo per i 10.000 iscritti ormai abbiamo superato quota 10.000 siamo quasi a 11.000 quindi ci vediamo la prossima settimana e non dimenticatemi di seguirmi ciao ciao dalla vostra vera ciao ciao